Ciao amici di Fonfixer Italia e bentornati sulla nostra pagina Facebook Oggi voglio farvi conoscere un brand, farvi vedere dei prodotti quindi non è una vera e propria recensione tecnica perché oggi parliamo di personalizzare esteticamente il nostro smartphone quindi oggi parliamo di cover, cover ragazzi bellissime Eccole qui, comunque le vediamo insieme dopo la nostra sigla Un po' di tempo fa sono stato contattato via mail da uno shop, uno store, insomma da Aliexpress come sapete questi vendono cover, spesso contattano gli youtuber, scrivendo accessori ti mandiamo un sample, vuoi provare, vuoi vedere ma cover ragazzi io non è che recensisco, cover comunque o prima di vedere un po' ho dato un'occhiata bene al loro store ho visto mamma mia che belle cover ho visto i loro brand perché loro fanno un brand che si chiama Aioria il loro store si chiama OC Wave e hanno un brand, proprio un marchio loro che poi vendono anche ad altri brand che si chiama Aioria ho visto, comunque ho risposto ho chattato con la loro promoter via WeChat mi ha chiesto che telefoni avevo io usavo adesso in questo momento e gli ho detto guarda adesso ho un Redmi Note 5 di Xiaomi e uno Xiaomi Mi A2 Lite oltretutto lei in Cina ha uno Xiaomi Redmi 6 Pro quindi sa quanto è bello il Mi A2 Lite in Cina ragazzi sono molto diffusi le mie UI di più rispetto ovviamente alle Android stock alle Android One essendo Google molto 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 limitato in Cina giusto per fare una parentesi di informazione è così Maretto ti mando una cover ti faccio provare i nostri prodotti va bene dopo 10-12 giorni sono arrivate 4 cover ragazzi 2 eccole qui possiamo vedere un pochettino trasparenti qui per il nostro in legno per i miei telefoni e 2 sempre per ovviamente per i miei due telefoni con il grain in legno ma più scuro comunque ragazzi guardiamone un pochettino al banco per vedere un pochettino come sono fatte ecco un pochettino le guardiamo da vicino 2 ragazzi io ancora manco le scarto perché mi sono talmente piaciute queste ormai ce l'ho da una decina di giorni quindi sembrava anche per perdere 5 minuti insieme per farvi vedere un pochettino come vanno queste cover ragazzi intanto vi devo dire che sono semi rigide quindi sono gommate sul lato in silicone così si vede subito dietro il rigido poi qui non è un colore che viene stampato sulla plastica ma bensì è un foglio in vinile che viene applicato tramite una pressa manuale ve lo dico ragazzi perché intanto vi faccio scorrere le fotografie qui vengono veramente fatte quasi interamente tranne gli stampi qui vengono fatte quasi interamente a mano quindi dietro questa cover c'è un grande ragazzi ragazzi un grande lavoro di mano d'opera e ciò si vede subito che ad esempio queste due cover non hanno la stessa non sono identiche seppur hanno la stessa trama vedete la venatura del legno vediamo se riusciamo ad avvicinarci un po' la venatura del legno ragazzi è differente quindi fa capire che sono veramente fatte a mano una con l'altra ecco qua guardate quando sono belle queste cover credo che gliene chiederò ancora sperando che me le mandino di qualche altro modello comunque ragazzi io vi lascio tutti i link per acquistare queste cover sono disponibili non solo per i Xiaomi ma ho visto OnePlus 6 S9 P20 anche modelli meno conosciuti ragazzi quasi tutti i telefoni non dico tutti ma hanno una loro cover sia della serie Aioria cioè la serie un pochettino più premium con questo vinile con il wood grain trama in legno disponibile anche sul blu e sul rossastro tipo mogano molto bello ma ci sono anche le classiche cover in silicone fatte bene con i brillantini lavorate per iPhone quello che volete ragazzi su OC Wave su AliExpress tutti i link in descrizione a questo video le trovate non le trovate su Amazon quindi su Amazon non ci stanno queste cover e comunque costano 4 5 3 60 3 50 in offerta qualcuna 7 qualcuna 6 prezzi abbordabilissimi io ragazzi vi ringrazio per il vostro tempo vi ringrazio di aver scelto PhoneFixer Italia nuovamente un salutone a tutti e ciao ciao